Ti muoio meglio, sembra che più di qualcosa ti faccio. Ho scoperto più gol, quindi puoi dire che ho cambiato, ma non sono ancora al mio migliore. Penso che questo non è anche più che cosa posso fare. No, credo che nessuno ha problemi con Totti. L'era prima della giustizia, gli ha dato la mano a tutti i giudici. Siamo felice, come un giorno normale prima del gioco. Tutto è bello. Per quanto riguarda, non c'è nessun problema con Francesco venire a prendere uno superiaturio prima della partita a salutarci e incoraggiarci. Prima di gol stavano iniziando ad arrivare qualche fischio. Poi sono arrivati a gol, come l'hai vissuto? Se non hai vissuto, ti vissuto. Quando hai vissuto, ti vissuto. Quando hai vissuto, ti vissuto. È così. Ma ho mostrato il mio caratteristico. Dopo aver perduto questa possibilità, ho vissuto un'altra. Quindi posso essere felice. Beh, è così che funziona. Se non segni ti fischiano, se segni ti applaudono e tutti ti amano. Però soprattutto ho dimostrato carattere dopo un errore, un'occasione facile, ho segnato una doppietta. E' una cosa soddisfatto. Per il terzo posto, vittemi di più. Inter o Fiorentina? Il Milan è lì. Tutte le squadre hanno la possibilità di finire il terzo. Ma credo che dobbiamo stare a noi e dobbiamo vincere i nostri giocatori. Quindi il prossimo è il più importante ora contro l'Enferi. Beh, secondo me c'è anche il Milan in corsa. Tutte le squadre hanno l'occasione di raggiungere il terzo posto. E adesso la partita più importante è quella successiva contro l'Enferi. Grazie.